Abbiamo saputo che finalmente giovedì, quindi dopo domani, è stato convocato un incontro tra la provincia, il comune, il provveditorato e soprattutto la scuola, il liceo Nolfi che da tanto tempo sollecitava l'attivazione di questo tavolo. Noi abbiamo presentato una mozione proprio per fare in modo che il sindaco si faccia garante del fatto che questo tavolo assuma un carattere permanente per affrontare in maniera organica, seria e completa la situazione emergenziale, sia nella sua fase transitoria, sia nella sua risoluzione definitiva. Che cosa vi aspettate che venga fuori da questo primo incontro? Noi ci aspettiamo innanzitutto che il nostro sindaco recuperi un ruolo più attivo nei confronti della provincia, perché abbiamo visto che il sindaco di Urbino Gambini ha ottenuto l'acquisto da parte della provincia di un edificio in cui temporaneamente saranno sistemati gli alunni del liceo Raffaello, mentre ancora per Fano non si vede la luce in fondo al tunnel. Quindi noi auspichiamo la presenza del nostro sindaco e dell'amministrazione comunale a questo tavolo, ma soprattutto questo tavolo dovrà essere convocato in maniera regolare in futuro, vedendo sempre la presenza del liceo Nolfi. Rimane comunque aperta sul tavolo quella cosa che avevate mostrato tempo fa, sulle tempistiche, sulle date, insomma questa è una cosa ancora aperta. Già nel 2010 alla provincia era stato chiesto per ottenere la certificazione di donità statica di svolgere ulteriori approfondimenti. Questa cosa purtroppo per nove anni non è stata fatta, neppure dopo il terremoto del 2016, in base alla documentazione che abbiamo ricevuto. Quindi io credo che gli studenti, i professori, i genitori degli studenti, ma in generale la cittadinanza meritino di sapere la verità.